A questo punto ragazzi, bisogna soltanto fare una cosa Prendere e droppare la chiave Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Lucky Ocean Sempre insieme al grandissimo Metano0000007 Ragazzi, nell'emissione di Tano ci sono cose di veramente pazzesco Allora, non sappiamo come, ma è successo Non voglio spoilerarvi più di tanto, mi dico soltanto che si è attivato quel dungeon Ed è il dungeon che io odio tantissimo Eh, Tano, tu sei pronto per andarci? Sono prontissimo Ok, va bene, allora Tano, si va, tanto possiamo volare Eh beh, in effetti è vero, in effetti è vero Via! Eh ma Tano, aspetta un attimo, sott'acqua però Si vede male Non per dire io, ci penso, io vieni qua Io mi porto sempre queste cosettine qui dietro, me ne sono portate veramente uno sbocco Ok Ho visto che sono l'unica cosa che se tu la clicchi col destro, guarda come si vede bene sott'acqua Oh, yes Ah, è una meraviglia veramente Non so quanto duri però, ma te ne ho dato un bordello Vabbè, sì, 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 esatto Ma Tano, comunque questo qui è un dungeon È abbastanza brutto Non capisco perché Ma io non lo conosco, te l'ho già detto No, ma In teoria Shotti Allora, c'è qualcosa che non va intanto A tutti i miei spettatori Sanno come è fatto il dungeon E quei beacon block là non devono esserci Quindi sa che è un dungeon Un management differente Anche perché a questo punto Tano Noi davamo a beccare la maledizione del dungeon Che vuol dire? C'è, ci sono dei boss dentro E danno la maledizione di Manning Fatigue Ah, quelli grossi, eh Ma soltanto quando ci vai vicino, no? No, già con un rag... Già, se tu vai vicino al dungeon dovrebbe dartelo Invece non ti danno nulla Eh, non penso tipo instant Eh sì, praticamente quasi instant Ah, poi io non ne so quasi nulla Quando li trovavo tipo a giro nei lucky block Mi... Allora, non ti so dire Comunque Io voglio capire una cosa Sì? Io ho visto una cosa bellina dentro Però ti sento niente No, no, no Non ho visto niente Ok, saliamo qua sopra Ci sono dei beacon block Eh, sì, sì Bell' lavoro Guarda, vabbè sì C'è la piramidina e tutto quanto Tutta bella caruccia Ah, ma la sfondiamo un po' da dentro così? Eh sì, Tano No, che vuoi fare? No, volevo affrontarla come un dungeon normale Però va bene Tano, Tano Che cos'è? È fighissimo Cosa hai fatto? Sono, sono quelli da fighi Ma cosa? Ah, sì, Lucky Perché quello che ti volevo dire Che ci ho visto la roba bellina dentro Tano Sono quelli buoni buoni questi E beh, sì Vedete scarpette Sono buone Militar boots Sono buonissime, mettitele Non mi cambia nulla Come non ti cambia nulla? Non mi cambia nulla Ma intanto le tengo Ma sono potentissime Non lo so, continuiamo, continuiamo Perché Ma da che parte? Qua sotto, qua sotto E io segui Lucky Block Ah, ok Io mi son perso Cioè io non so come funzionano Le piramidi le odio No, no Attrezzi stupidi, Tano Stupidi quanto? È di ferro Quindi abbastanza stupidi Eh, ma sono ovunque Sono anche qua sopra Eh, vabbè, è pieno Ma in ogni stanza ci sono È pieno, esatto E anche qua sopra Uh, uh, uh Mi ha dato Quality Leggings Non so cosa siano Non lo so Li provo Non cambia nulla Anzi, sono peggio di quelli Rispetto a che c'ho io adesso Guarda Le uova Eh, ma Ok Ho depositato le mie uova qua No, Tano Cosa? Eh, non ci facevo nulla Uh, Tano Guarda, guarda, guarda Qui c'è un'altra stanza Non è l'ingresso questo? Ah, sì Oh, oh mio Dio Ce ne sono due qua Mi ha provo Ah, ok, no, veramente l'ingresso No, così per land Che non sarebbe male Eh, vabbè E vabbè E lo vendiamante Che fanno schifo Ma ne ho visto anche da questa parte qui, eh Guarda, guarda Esatto Che bello, però Uh, ma guarda che se voli Sott'acqua va velocissimo No, ma è vero Verissimo Dai Che top Che cos'è? Non capisco Cos'è? Prime The TNT Throwable Ah, tiro la TNT Così mi sa Provo a farlo fuori dal dungeon No, fanno anche sott'acqua Non fa danni sott'acqua Eh, ma non voglio evitare Uh, che cosa ho trovato adesso? Tanto io avrò robe Trovo cosa belle Su color chestplate Scusa Ora li aprirei tu No, no Uno solo ne voglio aprire Ah, io Non mi hai fatto male in verità Lo so Però Ah, ma sei consumata Ma vattene via tu Eh, il throwable vuol dire lanciabile Quindi penso che siamo l'uso Ma pensavo fossero oggetti infiniti Tano Ecco vado qui Vado qui e prendo questo Lol Questo qua sotto il coso È mio questo Tano Io mi prendo il tesoro Che tesoro? Il tesoro Il tesoro che è qua Aia Ma non è un tesoro Guarda che c'è scritto che sono full No, ma che palle Ma che cosa vuol dire? Oh, c'è un altro qua sopra Guarda Oh, altri qua sopra Tano Aspetta Cosa? No, non ci credo Tano Tano, Tano, Tano Tano Guarda cosa c'era dentro Dove sei? Sono qua Tano Hai trovato il blocco Era tutto collegato? Aspetta Qui ci sono i cosettini Ma l'hai trovato qua dentro? Sì L'ho spaccato qua dentro Cioè, mi sa che Era fatto apposta Che era oro fake Per non farcelo prendere No Questo si sembrerà diverso Questo forse è oro vero? Cioè Non lo so, Tano Ma Dobbiamo subito Piazzano del Tardis Noi a casa abbiamo anche la key Sì Eh, prima prendiamo il lucky block Sì, sì, certo Io sono contentissimo di questa cosa Ma prima dobbiamo aprire il lucky block Perché se no Ovvio Non è successo nulla Ah, io apro questo Qui te lo yoink Sì, sì, sì Raga Avete visto? Cioè, abbiamo trovato questo No, no, raga Fra poco Torneremo a casa Prenderemo la key del Tardis E lo attiveremo No, Tano Ho trovato una key Abbiamo trovato una Apple No, uomo Uomo Che c'è? Uomo Oh mio Dio Hai prenduto la nostra spada? Sì Fa schifo Come fa schifo? Allora, tu la vedi questa spada qui? Sì È la nostra? Sì Ok E tu invece la vedi questa qui? È la nostra, vero? Sì Però è incantata Oh cacchio È incantata Cioè Te la passo Troppa Droppala Cioè Cosa? No, 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 no Che cacchio è? Non ha senso che sia incantata E faccia così tanto Oh mio Dio Perché Sharpness non fa tutto quel danno extra Però, ok No, no, è impossibile È disumana Non ha senso Non ha senso Tano, è disumana come cosa? Lo so È tutta tua, guarda Te la do Tanto a me non serve nemmeno così potente Andava benissimo quella che avevamo ora C'è un'altra qua sotto, eh, se vuoi Ok, ok Apro, apro subito Anche dall'altra parte Io non ho parole, veramente Ah, due dall'altra parte addirittura Eh sì, esatto Mamma mia Io apro quello sopra Ok, va bene Eh, io apro quello sotto allora No, altri groby dei beacon Ma vabbè, ok Eh, ho tolto il cappellino io Certo che il suono di queste cose è veramente noioso, eh Ma poi sì, ti attaccano di continuo Veramente scazzano Eh già Comunque facciamo ancora un giro Diamo se ce ne sono altri Perché a sto punto ragazzi Ormai che siamo qui Apriamoli questi laggy block Perché come potete ben vedere Possiamo trovare roba Oltre l'opi E oltre l'opi E io sono un po' aperto, ripeto Quindi giro a caso Oh, oh, ho trovato un cuore Un cuore? Sì, un cuore Heart È un cuore L'ho attivo No, non posso farci nulla Forse se lo teni nell'inventare È quello che ti dà Origenerazione di cuore extra Sì, mi dà forse qualche Non lo so Ci dovrebbe essere una roba simile Che ti dovrebbe dare cuore extra Vabbè, io intanto lo tengo Tano Che è stato? Tano? Ah, ok, 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 ok Eh, ragazzi Niente Continuiamo adesso Nella ricerca dei laggy block Se invece è tutto vuoto Beh, possiamo Già tornare verso casa Per provare poi Ad attivare il Tardis Eh, verso casa Perché bisogna andare a prendere La chiave La chiave, esatto Noi ragazzi abbiamo la chiave Dentro la cesta Eh, io continuo a cercare Ma non trovo Altri laggy block No, ma io sto schiamando a casa Non ho visto niente altro Ok, ok Vediamo Eh, no Qua è tutto vuoto Ok, sì ragazzi Qua sembra tutto vuoto Alla fine Quindi sì Si può tornare tranquillamente a casa Tano, secondo me Non so se ti ho trovato altro Anzi, ti dirò Io qui Ho Sei random Ne apro uno In acqua? Sì E ho brassato mezzo dungeon Bene Ne apro un altro E' sparato un enderman Proprio nell'acqua Top Ne apro un altro Jurassic Oddio quello che No Tano Cosa? L'ho beccato con la spada Non è morto Ok, ora l'ho shottato Come? Non è morto? L'ho dovuto dare tre colpi di spada Di quella lì? Sì Non ha senso Lo so Apriò questo ora Ho paura Non è successo nulla Ok Apro quest'altro Gas sott'acqua Vabbè, ucciso Poetano Questo No, uno gigante Usce Ok, ucciso Ho mandato una spada forse figa Lo sai? Il meglio della tua impossibile No, 900 di danno Vabbè, ok Niente ragazzi Ho aperto questi Lanky blocca anche Questi qui non li apriamo Perché sono Rage quit Meno 100 È inevitabilità Non so se non so Veramente brutta Quindi non li voglio aprire Sinceramente Tano, io esco fuori Sto già volando E andiamo verso casa Ok Si, si Si va verso casa Si va verso casa Ragazzi, siamo quasi a casa È giunto il momento Mi sa Ma prima di tutto Scusami Devo fare una cosa importantissima Cioè? Ecco fatto Aspetta Ma ho la lost chest plate Che cosa fa? Niente Ok Va bene Raga Io posso tutto dentro Qua dentro Non me ne frega nulla Sì, sì Ma anche io sto posando le cose a casa Veramente Cioè, raga Abbiamo trovato Mi sa Finalmente il blocco Tano, se funziona È una cosa Pazzesca Se funziona Potremmo sperare Di poter tornare a casa Esatto Esatto Anche se Senzamente Quando stai così tanto tempo Fuori di casa Ti sembra questa Ti sembra questa la tua vera casa Eh, lo so Quindi sarebbe strano Tornare indietro Eh, lo so Lo so Lo so Lo so Però Raga Ho la chiave Del Tardis Aspetta La devo rifare Ragazzi Ho la chiave del Tardis Tano Andiamo subito al centro Fasterino Mamma mia ragazzi Non vedo l'ora Ok ragazzi Siamo al centro È giunto il momento Abbiamo sia la chiave Che il blocco Che dobbiamo mettere Nel Tardis Prima di tutto però ragazzi Spaccate adesso Il tasto del mi piace Veramente Perché forse Riusciremo finalmente Ad attivarlo Adesso Piazzo il blocco Tano Lo piazzo Vai metti metti Piazzato Tano Chiavi in mano Plic Plic Cosa clic clic Cosa stai facendo Vuoi chiamare No 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 Va bene Tano Allora io clicco Ma non succede nulla Ok Eh no Devi buttare sopra Come l'altra volta Mi sa Sì 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 Però ho fatto una cosa Non ha fatto il fulmine Ah Ci hai fatto caso Non ha fatto il fulmine No in verità non ci ho fatto caso Ma ci avrei fatto caso Se l'aveste fatto Quindi suppongo Io spero vada tutto bene Uomo Sinceramente Non lo so Tano A questo punto ragazzi Bisogna fare una cosa Prendere E droppare La chiave Lo faccio Tano Vai fallo fallo Ah tardi si attivo Tano Tardi si attivo What Che siamo finiti Due Inizia Tano Non vedo più nulla Tano I fulmini Ma che cacchio sta succedendo Ciao No Grazie a tutti